Sì, tutti noi, io sono quello che sta parlando il vostro caro Edomondo Baccari, adesso tutti noi faremo questa discesa da lì sopra, senza frenare, attraversando questo percorso, fino alla sopra. Senza mettere il piede. Se vi piace il video, lasciate un mi piace e un commento se non vi è piaciuto qualcosa. Comunque, godetevi lo spettacolo, ora noi stiamo tutti quanti salendo. Di sicuro qualcuno non si farà male. Aspetta! Aspetta, Matera. Ed ora, il primo, il mio caro, 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 ormai ci conosciamo dall'infanzia. Luca Matera, via! Bravissimo, ora tocca al secondo Nicola Durante! Questo, miei signori, è un caro, bravo ragazzo, molto agile e vivace. Ora toccherà a Mauro! Anche lui, come Nicola, è molto vivace. Scemo! Acrobatico! Muoviti! Lui a volte fa sempre baratti e minacce, ma ora ce l'ha fatta!